Suora, Sol Fulgenzia? Professore, professore amabile Senta, le volevo chiedere una cortesia, scusi Lei ha fatto la missionaria? 15 anni, 15 anni figliole E' stata buon in Cina? In Cina, un po' dappertutto Allora lo sa il cinese? Beh, insomma, ha parlato pochino, ma ha scritto meglio Ecco, allora, legga, legga, voglio sapere una medicina nuova come funziona Eh, fresco e usarlo mezz'ora prima Brutta sparcaccione Ah si, allora, va davanti, non ti preoccupi, va davanti, legga tutto Pure, eh, indecente, pesente, scostumato, villano, veziasone Eh, baffancina, non reagire che ti spezzo, lo so sempre ti spezzo io, sai Se ogni medicina che legge, tu mi dai uno schiaffo e mi fai una faccia così, mi fai Vai via!